I saldi invernali partono oggi e 6 italiani su 10, circa 15 milioni di famiglie, rispetteranno la tradizione e si dedicheranno agli acquisti, destinando un budget di spesa complessivo fino a 275 euro contro il 254 dell'anno scorso. Questa è la fotografia dell'ufficio Studi Confcommercio, secondo cui per l'80% dei consumatori i saldi sono un modo per rinnovare il guardaroba, facendo anche qualche affare. Il 60% circa delle imprese del commercio a dettaglio ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno, tra gli articoli più richiesti in testa alle preferenze abbigliamento, calzature, mentre a registrare i maggiori incrementi rispetto allo scorso anno saranno gli articoli sportivi e gli accessori. Un'occasione, un'opportunità bilaterale sia per i commercianti che per i consumatori. I commercianti da una parte rinunciano ai margini di profitto, puntando sulla liquidità per superare questo momento drammatico di crisi. I consumatori hanno l'opportunità di fare acquisti a prezzi ribassati in sicurezza e soprattutto contando sulla consulenza professionale dei commercianti che mettono sempre al centro il rapporto con il cliente e quindi sviluppando un modello di impresa che ha come cardine l'importanza del cliente e i rapporti umani. La spesa pro capite però non coincide a quella che realmente sarà spesa secondo lei. Allora la spesa pro capite a livello nazionale con commercio e federmoda hanno stimato 4 miliardi circa di spesa per i saldi invernali con una spesa pro capite di 119 euro e 275 a famiglia. Però se mi permettete una nota polemica direi che la gran parte delle famiglie queste cifre se le è già spese pagando delle esose bollette dell'acqua e anche dell'Atari le cui rate sono arrivate già scadute e quindi da pagare in un'unica soluzione.